eeeh welcome back guys con francesco di barri siamo tornati sul mio canale a portare questo live ragazzi la classe sarà questa inguardabile l'ho fatta di merda una cosa bruttissima con me come avete sentito c'è un gay ovvero un transessuale il tfk bomb e tua madre si ragazzi mi raccomando passare al canale l'etfk perché se lo meritano se li meritano questi dislike si sono guadagnati vaffanculo ti stupro il culo quindi dicevo passata a mettere dislike ho detto questa classe veramente che overpower quando da snipe avrete da questo video mi dirà fricks sei un grande mi hai aiutato veramente a capire le regole del gioco come funziona che armi di usare e andrà a fare il mio ex a nulla penso al numero su voi vogliamo no no io ho fatto come uno stasera devo volare un attimo in america con il jet privato mi accompagna un attimo obama c'ha le medaglie pronte ok sei poco un coglione tu madre tu madre al massimo una coglione che poi tu oh mio dio frixos hai pompa diamante ma che c'è ma che c'è ma che c'è devo dare classe di merda cercherò di fare una kill col porco dio di c4 esplosivo si è lanciato questo c 4 ora me lo dovete daniel non passi papa c'è perché siamo portati davanti la mira è morta una cosa non ciò accordo da due settimane scusa ho fatto una partita completamente che schifo di uomo completamente a scazzo guardiamo ricarica e muoio ricarico l'arma come tu hai visto eravigilizzato era un fantasma tu l'hai visto incredibile incredibile hai imbarato della scena eh ciao questo è come puoi draw shottare uno mica te chiami ma lui non mi succhia il cazzo no il cazzo non lo succhia tutto vieni quanti cazzo vedi c'è se ci fosse stato panace al posto mio quelli non avrebbero sparato e ci avrebbe fatto la clip ci avrebbe fatto invece quando io incontro due persone prego dio se ne è uscito una se sono fortunato si ho capito pure te esci dalla colpo un po e che cazzo le so poi le risponde cioè sai com'è tu esplodi ma come una cdc4 non le lancia nessuno dico perché a me è troppo il prezzo ancora ama te ma no no mamma a mangiare dopo cioè devi dire qualcosa pure te perché ce la faccio il matteo a mangiare un par di io per uccidere io per uccidere una persona devo fare i drop shot tutti i james o tutto in uno mi devi mettere le nuove mosse porto due bersaglio eliminato guarda che cazzo fai guarda che è ma già i vari cover di porco due va bene aspetta aspetta porco due io devo pregare no nel panino il sandwich questo che fa tredici in there town is dufatti dragon ball 5 si crede da snipe c'è la gente che si crede forte come cazzo la giardino come cazzo è lanciato le c4 visto il fatto che ne ha lanciato tipo 4 tra la partita di cui due del giardino cazzo guarda quanto la benzina ria solo 57 centesimi di dollaro andiamo tutti a stella a far fare freddo questo che mi vuole questo è lo stato stai ancora qua stai ancora in arrivo ricarico ma che cosa è come minimo sette volte l'avrei preso e l'avrei fatto il sanguinario solo su di lui poi a noi ci deve mettere gli flanker torniamo il live per quanto l'ho distrutto Si va dopo arriva Aspetta sto giocando No no Va bene esci che devo giocare Ok ciao Mia madre che rompe il cazzo Cazzo ridi Tra poco io vado al maligomio Vado Cazzo Finta Cazzo Versaglio eliminato Ha esso fini di nemici E' proprio tutto per l'arrivo Cambio contro attacoli Io dove sto andando Sembra uno spiaggiano Abbiamo spiaggiato Tu muovi tu Marco 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 Zana Te lo colpo un palazzo Un po' Arrivi Ci arrivi Ci arrivi Ci arrivi Ci arrivi Ci arrivi Pietro Pietro Ma che cazzo sta fai? Ma che cazzo sta scherzando? Ma mi ero lanciato Comunque Ma scherziamo Ma che Che comportazione è questa? Io lo prendo con le mie pussette Aspetta Tutto gli title Vabbè Qua la partita illegale E' finita Spero che vi sia piaciuta Lo chiameremo Rotto nuclear Qui da Brixus è tutto E da Bongo Ci si becca un prossimo video Belli riga E' la vana 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 Sghè